in questa fase. L'Agenzia del Demanio è pronta a mettersi a servizio dell'economia italiana e a sostenere lo sforzo senza precedenti per uscire dalla crisi coronavirus. Lo ha sottolineato il direttore Antonio Agostini durante la presentazione del programma di investimenti tecnologici e digitalizzazione sugli immobili pubblici per migliorare l'efficienza gestionale. La valorizzazione del patrimonio pubblico, ha confermato il Vice Ministro all'Economia Amisiani, potrà giocare un ruolo centrale nel piano di rilancio che l'Italia presenterà a settembre, non come bancomat per fare cassa, ha precisato, ma come bene da valorizzare in un'ottica di sviluppo. E c'è stata una svolta del governo britannico.